Scusa le gambe Scusa le gambe Siccome comunque sia sei coordinato perché hai tanta destrezza a metterlo con le non sapevo cazzo perché lo puoi fare anche se è così che non hai mai pensato della corsa poi la palla deve sapolare anche le parti del tavolo quindi se la palla c'è qua, fai tutto il passo indietro tienila e ritaglia Allora il primo appoggio con la palla il primo appoggio deve essere sulla tua direttrice di palla il primo appoggio è la palla il primo appoggio è la palla il primo appoggio è la palla è un po' giocco le gambe, due le placci le placci non do il cazzo con la palla controllo la palla vieni sempre dritto le gambe c'è tutti i cazzo con la palla cazzo con la palla buono buono scusa comunque le gambe lui scusa comunque le gambe lui per fare la palla secondo me è tutto si è giusto l'andata bisogna incrociare subito l'andata vieni sempre le spalle rivolte all'orecchio comunque sia l'altra palla io non posso coltare le spalle prima diretti va su quindi da qui non ci si prova mille volte meno non è un po' di vado eh come fuoco fuoco questo è il prefetto non è un prefetto non è un prefetto non lo voglio sempre non è un prefetto stai venendo a un fitto prendi un po' di per me per me per me per me per me per me ma invece da qui non è un profetto non è un profetto per me Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.